Mentre dipingo questo quadro, mi viene l'ispirazione per raccontarvi un film dal 1963, che è un impianto narrativo a episodi. Se vi dico Rogopag, cosa vi viene in mente? Ve lo dico io, Sciocchini. Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. Non vi sentite improvvisamente felici? Io, sì. E fin si apre così. Quattro racconti di quattro autori che si limitano a raccontare gli allegri principi della fine del mondo. L'Annafora ci mette già in guardia della cume che troveremo. Corsellini si apre in libatezza. Tutto il senso del film lo possiamo racchiudere nelle parole di Adler che precedono l'episodio. L'uomo di oggi frequentemente è oppresso da una indefinibile angoscia e nel travaglio quotidiano l'inconscio gli suggerisce un rifugio che lo protesse e lo nutrì, il grembo materno. Ui, Rossellini gioca carte scoperte, ma rimaniamo comunque deliziati dall'assistente di volo all'Italia, interpretata da Rosanna Schiaffino, che per liberarsi di un morboso cortegiatore si trasforma addirittura in fan fatale, destabilizzandolo ancora più, facendolo proprio scappare. Godard è più visionario e racconta un mondo distopico. Nel male sottile del nuovo mondo vediamo Parigi con gli occhi del protagonista e percepiamo il cambio mondo attraverso il comportamento di Alexandra e la sua fidanzata, che lo ex ama. Pare che una bomba atomica abbia cambiato non tanto la vita biologica, ma il senso di vita comunitaria. E pare crederci anche Godard, tanto che vuole convincerci tutti. Pasolini utilizza molti dei suoi temi, Roma, la povertà, la fame, l'industria cinematografica. C'è il nome del protagonista, Stracci, la dice lunga, e l'imperturbabile regista Orson Welles, senza la minima commozione, lo ricorderà così. Povero Stracci, crepare, non aveva altro modo di ricordarci che anche lui era vivo. Sicuramente il pensiero di Pasolini è espresso con passione nelle risposte di Welles, che durante un'intervista reciterà una poesia di Pasolini stesso. La ricotta è di certo il migliore dei quattro episodi per la Comtesse, se vogliamo considerare le metafore e le allegorie della vita e il neorealismo manieristico, oltre che quelle situazioni meta-letterarie che ci regala con tanta generosità. Polo Ruspante di Gregoretti racconta la vita durante il miracolo economico in Italia, epoca di consumismo caro a tutti gli autori. Il Polo Ruspante diventa il simbolo della libertà che un padre tenta di spiegare al figlio, senza accorgersi della falla. Alberto Moravia, nell'Espresso del 3 marzo 1963, scrive Dobbiamo permettere che un solo giudizio si attagli a quest'episodio. Geniale! E la Comtesse non può di certo dar torto al grande scrittore. E adesso vado avanti a dipingere. Ambroso! Il Penello! Grazie a tutti.